Siamo qui domenica mattina con il sindaco nella casa comunale perché c'è un problema che sta diventando ormai insopportabile, più di un mese che approcita non c'è l'idroambulanza, cioè la motovedetta che trasporta gli infermi e quindi è il caso di comunicare agli amici della rete ma in genere a chi ci segue il motivo, cosa sta facendo l'amministrazione comunale e perché poi il sindaco è particolarmente agitato fino ad aver annunciato e addirittura fatto degli atti particolarmente gravi e incisivi per risolvere il problema. L'atto conclusivo di una vicenda particolare e dolorosa a mio modo di vedere è quello di una denuncia alla procura della Repubblica. Noi sappiamo benissimo che abbiamo un'idroambulanza qui a Procida che è destinataria di moltissimi interventi a terraferma, parliamo di 250 interventi l'anno, quindi oggi un mezzo navale è assolutamente necessario per la nostra isola. Naturalmente questo mezzo navale ha bisogno di manutenzione e ha bisogno di riparazioni. Queste riparazioni sono affidate alla Capitaneria di Porto, la quale naturalmente non sappiamo con quale strumento, se con una gara, se con una trattativa privata affida questo tipo di riparazioni. Dopodiché i cantieri giustamente presentano una fattura per il pagamento di ciò che è stato riparato e la Capitaneria trasferisce agli organi competenti affinché gli organi competenti possano liquidare questi pagamenti. Tutto ciò in questi anni stranamente non è accaduto. Io non so di chi possa essere la responsabilità. So solamente che la nostra motovedetta oggi è ferma nel porto di Procida e questo è assolutamente impensabile. Penso che sia stato doveroso da parte mia, dopo aver cercato di capire, cercato di affrontare il problema, denunciare, è stato doveroso denunciare alla Procura della Repubblica queste gravi inadempienze da parte di organismi sovracomunali. Quest'atto estremo che la denuncia alla Procura della Repubblica per capire le responsabilità per cui si è arrivato a questo punto, naturalmente segue una serie di attività che avete fatto nei confronti anche dell'Asla della Regione, immagino, che avete fatto per sollecitare in termini rapportuali, ordinari, il ripristino dell'attività dell'ambulanza di mare. Sono stati effettuati degli incontri in Regione Campania dove insieme all'assessore Maria Capodano abbiamo evidenziato la necessità di avere l'idroambulanza. Le regioni sono stati non evasivi, ma loro non conoscendo esattamente le realtà dell'isola di Procura o delle isole in genere, cercavano di rassicurarmi ricordandomi che a Procura c'è un elisuperficie. A questo ricordo da parte di alcuni funzionari della Regione Campania ho semplicemente ribadito, ricordando io a loro, che l'elisuperficie l'abbiamo costruita noi come un elisuperficie e che se oggi abbiamo un servizio anche notturno, questo è sicuramente merito nostro. Mi ha detto questo, quindi è vero che noi abbiamo un elisuperficie, è vero che abbiamo nel superficie con emergenze anche notturne. È anche vero che però l'elicottero non può essere quel mezzo di trasporto in terraforma unico, deve essere a mio modo di vedere quel mezzo eccezionale che in determinate condizioni deve essere utilizzato. L'idroambulanza è stata nella storia sanitaria procidana è stato il mezzo navale con il quale sono arrivati in terraferma gli ammalati, sono arrivate le partorienti e quindi quello è un nostro mezzo tradizionale di trasporto in terraferma. Ho ribadito questo concetto e naturalmente tutto questo a mio modo di vedere a tutt'oggi non è bastato. Questo fatto a me sicuramente non mi rassicura e per questo, come ho detto prima, mi sono rivolto alla Procura della Repubblica. Voglio dire ancora una cosa che penso che sia importante. Ognuno di noi milita all'interno di coalizioni politiche, ognuno di noi è rappresentativo di un'esperienza politica. Vi assicuro che davanti a situazioni così complicate, secondo me non possono esistere ideologie. Io sono pronto ad affrontare una battaglia in terraferma anche contro l'amministrazione di centrodestra attualmente regionale. Se il problema dell'idroabbulanza non viene risolto io sono pronto a scendere in guerra, anche con la regione Campania. Tutto gira poi alla fine, è un problema economico, siamo in un momento di tagli, ma ci sono sicuramente delle responsabilità da accertare che probabilmente, sicuramente questa denuncia suscita. Poi c'è anche un problema in cui le compatibilità economiche per un'isola, magari se c'è da fare o dei risparmi, magari non si devono fare proprio rispetto a uno strumento importante che poi nel passato, ricordando anche i parti, è stata chiamata anche la cicogna del mare. C'è sicuramente un problema di responsabilità e c'è sicuramente un problema di scelte. Da parte di chi in passato ha governato la regione Campania, che ha pensato di non pagare queste fatture e di pagare dell'altro. Questo è quello che mi fa più rabbia. Aver deciso di non pagare, secondo me, delle spese che sono assolutamente necessarie, in sanità tutto è assolutamente necessario, in particolar modo quando si parla di isole. Io ho già detto in Consiglio Comunale, una volta intervenendo sulle questioni sanitarie, che la terraferma ha delle grosse possibilità. Lo Stato, la regione, la provincia investe tanto in terraferma. I cittadini delle metropoli, come Napoli, hanno la possibilità di avere un'offerta culturale, scolastica, di gran lungo superiore di questi piccoli territori che sono le isole. Dico, alle isole cerchiamo semplicemente di garantire il diritto alla salute.